Como è davvero uno scrigno d'arte ed un punto di riferimento del turismo nazionale ed internazionale. Queste le parole usate dal Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per descrivere la città di Como. La visita sull'Ario è iniziata alla Camera di Commercio, dove il Presidente Casellati ha incontrato il Sindaco Mario Landriscina, il Presidente della Fondazione Alessandro Volta, Luca Levrini, e i vertici dell'Ente di Via Parini, di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e dell'Ordine degli Architetti. Como, ha detto il Presidente del Senato, è la dimostrazione del saper fare. Qui si vede la tradizione che però poi trova nella forza dell'inventiva e nella forza della modernità anche l'innovazione. Qui non si molla mai perché la vostra gente è una gente che ha imparato a rimboccarsi le maniche e a non cedere alle difficoltà. Io invito come istituzione anche la politica a farsi carico di quelli che possono essere i problemi di questo territorio, che come hanno illustrato i relatori oggi vanno da una tassazione troppo alta a una burocratizzazione e a un fatto di leggi troppe e talvolta anche contraddittorie e confuse che soffocano non soltanto le vecchie imprese ma impediscono anche alle nuove di poter avere vita. Quindi alla politica il compito di far tesoro di questo terreno prezioso per dare una nuova linfa vitale ed economica a questo territorio e significa darlo a questo territorio, darlo all'intero paese. Due gli appuntamenti per questa sera all'hotel Vista di Piazza Gavur l'incontro con Benedetto Madonia e Claudio Ramaccini del Centro Studi Sociali Contro le Mafie Progetto San Francesco a seguire l'evento Da Galileo Galilei allo sbarco sulla Luna al Teatro Sociale di Como in occasione della giornata internazionale della luce. Domani il presidente Casellati visiterà l'associazione di volontariato Cometa e lo stabilimento industriale di Artsana per poi spostarsi a Monza dove alla Villa Reale incontrerà il sindaco Dario Allevi e gli imprenditori di Assolombarda.